Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno il mondo. Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati sono i puri di cuore, perché contempleranno Dio. Beato chi porta la pace. Perché sarà chiamato figlio del Signore. Beato colui che è perseguitato, perché cerca la giustizia. Perché suo sarà il regno dei cieli. Beati sarete voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno. E diranno ogni male contro di voi, per causa mia. Gioite in loro. Gioite e rallegratevi. Perché sarete ricompensati nei cieli. Come è avvenuto per i profeti perseguitati prima di voi. Gioite e rallegratevi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.